Ciao a tutti e amici e benvenuti in questo nuovissimo video di Seven Days to Die The Survival World Crafting Game Com'è sentito? Io sono Maurizio, qui con me Braistar Sì che dovrebbe essere qua, eccolo qua Braistar Siamo dovuti scappare dalla nostra base Perché come potete ben vedere Stanno arrivando i fottuti zombie Che sono ovunque Non siamo al giorno 7, siamo al giorno 6 come vedete Ma comunque gli zombie arrivano dappertutto Quindi Braistar ce la dobbiamo fugare Andiamo a esplorare qualcosa Perché dobbiamo assolutissimamente trovare del cibo E non abbiamo una mazza di cibo Ma che ci fanno quegli zombie salterini? Guardate là in fondo, altro zombie salterino Guardate il mio personaggio A 0 di stamina Braistar scappiamo Io non posso correre In mira mi va 0 di stamina dopo un po' Ma perché ci sono già gli zombie salterini? Io c'ho 8 Cioè è pazzesco Bisogna trovare qualcosa da mangiare Eh ma se non si fa giorno non si vede niente Hai Braistar che ce n'è uno super ciccione Una zombie ciccione Mi vuole far fuori Vieni qua dove sei Braistar dove sei? Vieni qua Braistar Ho tenito pure le frecce Dove sono le frecce? Dammi le frecce qua Frecce Vai di martello Braistar Mentre lo tengo impegnato Martellalo da dietro Braistar Non posso non c'ho stamina Spara col tasto sinistro Va bene uguale Vai Non con quella Non con quella Non è morto però Non posso più Eccolo Non posso più usarlo il martello Forza signor zombie Esca da qua Ecco Ecco diretto Bravo bravo Sulla trappola Bravo E ti tiro anche una mazzata Eccolo qua Perfetto E ci ha aperto la via Quindi possiamo andare Da questa parte qua Braistar esplora Questa zona qui Vediamo se troviamo qualcosa di interessante Ti serve cibo Braistar Vado sopra? Solo cibo Sì vai sopra Stai molto attento a quello che c'è Sì vai sopra Stai molto attento a quello che c'è Stai molto attento Braistar Sono morto? Dove sei morto Braistar? Dietro di te Non so perché Tu non sai perché O c'era una trappola Sì sicuro Però sei passato Sei passato tu Sei passato È perché mi sa che l'hai rotta la trappola Aiuto 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 zombie Ci sono zombie ovunque Cosa ci fa un lupo morto qua? L'avrà ucciso uno zombie? Non lo so Però Braistar ho trovato la carne Tanta carne ho trovato Un lupo era morto Non so perché era morto Fuori qua dalla stazione di pesca Chiamiamola così Ora mentre Braistar torna Visto che è morto Io vado qua in questa casa qua Che è un information center Ma avranno qualcosa da mangiare In sto information center del cavolo Ci sarà qualcosa o no? Tanto io sto esplorando una bellissima cucina Che c'è il nitrato che ci serve Poi amici vi spiego perché ci serve il nitrato E poi ho trovato Meat stew recipe Cioè la possibilità di fare il minestrone La minestra di carne La zuppa Insomma quella roba lì Che non è mai male E qua cosa c'è dentro? Questa bella cassettina qua Magari c'è roba interessante Vediamo un po' Cioè il recipe per il tè rosso Che male non fa Andiamo a vedere qui Carta Vediamo qua c'è tutto bloccato Allora l'information center dove sono? Sembra abbastanza libero Ho trovato la birra Non me ne faccio niente C'ho tre di vita E sto per morire Due di vita Sto quasi per morire così Dal nulla Da niente Due di vita Dove c'hai? Due di vita Uno di vita Uno di vita Mi vedi sulla mappa Braystar Uno di vita Tra un po' muoio Morto Vale E adesso Devo tornare qua Riprendere la roba La nota positiva è che il 3 da aperto Adesso mi vado a prendere la missione Quindi Vediamo un po' C'è clear tutti gli zombie Braystar va bene C'è uccidi tutti gli zombie Devi sì Tier 1 Vai Accetto E andiamo a vedere dov'è Vediamo un po' Prima devo recuperare però la mia roba nello zaino Aggiornamento della missione Stiamo arrivando verso la missione Il problema sono Gli avvoltoi sopra di noi Che Sono sopra Adesso non si vedono mai Ci sono ogni tanto sopra E soprattutto questo terreno difficile 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 da Da continuare a camminare Occhio C'è un bello orsetto Fai attento che c'è un bello orsetto Dobbiamo cercare di evitare No lo evitiamo Perché se ci carica Appunto Siamo veramente morti Ce ne sono due Ce ne sono due Che cavolo Esattamente dove dobbiamo andare Ma perché Cosa ci fanno gli orsi Nel fottuto Zona Contaminata Cosa ci fanno gli orsi qua Cosa diavolo ci fanno gli orsi qui Vi chiedo io Sappiamo Intanto noi dobbiamo andare da questa parte qua Sperando che poi non vengano attirati dal casino E arrivino lì a farci la festa Speriamo di no Siamo quasi vicini al punto Della missione E meno male che doveva essere vicino Una vicina signor trade Ma sì signora Morrugio Gliela trovo Sì Una vicina Invece La vicina per lui è lontano E Cavolo Siamo quasi Ci siamo quasi Siamo a pochissimi metri Eccoci Deve essere qua da qualche parte Il Il punto esclamativo Qua Ah è qua il punto esclamativo Sti cavoli E qua Braistar dimmi quando sei pronto Bevi acqua Inizia a bere un po' d'acqua Così Ci siamo già portati avanti con l'acqua Che non si sa mai Cosa devo usare Il fucile? Eh Sì Direi il fucile Vediamo un po' Vediamo dov'è Sei pronto? Vado? Vado Partita Partita Bisogna Ripulire quest'area qua E ci sono i corvacci Ci sono i fottuti corvacci Cos'è sparato Braistar? Eh Ho sparato al corvo ma l'ho preso Spara al corvo Braistar Spara al corvo Maledetto corvo Muori Muori ma... Ma cos'è il corvo? È fatto da acciaio Sì Non lo prendo con... Ma cavolo è? È d'acciaio il corvo Vieni giù corvo Vieni giù No Non lo prendo col fucile Adesso lo prendo io Preso Forse Aspetta Preso Ok Braistar Vai No vado io di coltello Perché questo qua ci dovrebbe dare La carne secca Che forse ci serve Sì ci serve Poi amici Vi spiego il perché ci serve la carne secca Ora arriverà un'altra ondata O qualcosa del genere Quindi Occhio Aiuto aiuto Arrivano anche da dietro L'uomo in giacca e cravatta c'è L'uomo in giacca e cravatta Il tizio qua Via via di arco Anche arco Risparmiamo le frecce Via di arco Via di arco Preso Una porca miseria Prendi l'uomo in giacca e cravatta Braistar Dove Prendilo Ok Molto bene C'ho il cuore che batte Il cuore che batte cos'è? C'ho il cuore che batte C'ho il cuore che batte Sto per morire Eh anch'io c'ho il cuore che batte Ah perché ti hanno ferito Devi usare la benda O se no aspetti un attimo Che se hai abbastanza vita Dovresti farcela A rimanere vivo Sì comunque È riuscito a rimanere vivo? Sì sì No Prendi questo Pine killer che ho trovato in giro Piglia e mangia Ah ma abbiamo finito Abbiamo finito Clear area fatto Ritorna dal trade e parlaci Perfetto Braistar Abbiamo finito Quindi adesso Adesso Faccio notare amici Ho trovato anche Due becker Che Che chi si ricorda La scorsa stagione Era veramente difficile Cos'è sto casino? Sono io Ah ok Braistar Sì ho fatto bene Braistar entriamo dentro qua Perché qua c'è roba C'è mangiare qua Braistar C'è il mangiare Dentro qua Anche lì sul tavolo Raccogli tutto qua sul tavolo Se c'è il Braistar Bravo Qua non c'è più niente Allora aspetta Ti do la carne Che tu hai già Eccola qua Molto bene E andiamo a vedere Se c'è altro in giro Ma direi di no Ci sono però Le piante di corn Prendi Le spacco tutte Perché amici Adesso Torniamo dal trade Usciamo dalla zona nefasta qua Andiamo dal trade E vi spiego Perché hanno cambiato Il sistema di Di coltivazione E l'hanno reso Un tantino più difficile Ed eccoci di nuovo Dal trade Questa volta Per dirgli Che la nostra missione È stata Fatta e eseguita Talk to trade Perfetto Ci dà Allora 3000 di XP 670 di Duke Casinò Che è la valuta Ci dà Un arco Di livello 1 E degli antibiotici Anzi Possiamo scegliere Fra l'arco Di livello 1 E gli antibiotici Io prenderei Gli antibiotici Braystar Si si Giusto Perfetto Poi Dopodiché Stop Vedo un attimo Cosa c'è Nell'inventario Roba che ci potrebbe Far comodo comprare All'inizio Qua Visto che all'inizio Siamo debolucci Ti dico Braystar Che ha la bicicletta Ci vende la bicicletta Per 5000 Oppure lo chassis Del girocottero Per 30.000 Quindi se ci facciamo Un po' di soldi Potremmo Recuperare Queste cose qua Che non sono male Però per ora Diciamo che roba Che ci interessa Non ne ha Possiamo tornare La nostra base Ed eccoci alla nostra base Qualcuno di voi dirà Ma Amon Ma che base è Non è quella Infatti è quella Però questa è Una uscita Dove stiamo Adesso scavando Di qua Per fare un'ulteriore stanza È collegata Con questo tunnel Che stavamo già Facendo l'altra volta Alla parte Diciamo principale Per ora Che poi non sarà La parte Ovviamente Principale Qua vedete È stato allargato E alzato il tutto E rimarrà così Non lo faremo Più grosso Poi più in alto Di qua Faremo la serra Ed è qua Che arriviamo Al punto Allora amici Per fare Per coltivare È stato cambiato Tutto Perché per coltivare Bisogna fare Il farm plot Eccolo qua Il farm plot Non è nient'altro Che un vaso Si fa con 4 di legna 10 rotting flash 25 nitrate power E clay soil E dentro questo Possiamo piantare Le nostre Piantine Quindi Braystar Qua ci serve Legno Ce l'abbiamo Clay Ce l'abbiamo Nitrate power Ce l'abbiamo Ci serve rotting flash Adesso Quindi bisogna Assolutissimamente Uccidere Qualche Penso già Gli zombie Potrebbero bastare Ma lo faremo Nella prossima puntata Però Amici Oltre a questo Ovviamente Mettiamo il caso Adesso vi faccio L'esempio Innanzitutto Sblocco questo Corn seed Utilissimo Poi soprattutto Prendiamo le patate Visto che Lì al trade Ho preso le patate Per le patate Possiamo fare Il recipe Ovviamente Del seme Delle patate Ma per farlo Vedete che ci serve Living of the land Living of the land Se noi schiacciamo perk Ce lo sposta già Però Gator Ci dice che Possiamo arvestare Due items Delle robe Selvagge O quelle piantate Quindi Sblocchiamolo E Gardner Invece Ci permette Di Craftare I semi Però per fare questo Ci serve Fortitude A livello 3 Quindi devo Aumentare Questo Direi di aumentare Questo qua E aumentare Questo qua E a questo punto Grazie a queste cose qui Posso aumentare E fare questo Perfetto Adesso Braistar Sono in grado Dalle patate Teoria Non è vero Non sono ancora In grado E invece Non sono in grado Ancora Perché serve Un ulteriore livello Forse il farmer Cioè Bisogna aumentare Un altro Livello Vedete You can craft seeds For berries And vegetables Quindi Ci servirebbe Questo Quindi livello Farmer Quindi devo andare Ancora Di un livello Superiore Intanto là Ho piantato Anche gli alberi Che tra un po' Cresceranno E ci daranno Della legna Comoda Davanti Alla base E poi Vedremo Di andare avanti Faccio un ulteriore Precisazione Perché l'ho letto Nei commenti Intanto che Braistar va in giro A controllare Che non arrivino Zombie Qualcuno di voi Ha detto E Amon Preferivo la vecchia serie Con te in solitario Eccetera eccetera Allora Amici Questa è una prova Del cop Braistar mi sta dando Una mano a costruire Questa Fottuta base Altrimenti sarebbe Quasi impossibile Farla per un singolo Giocatore Soprattutto adesso Quindi mi sta dando Una mano E poi Tra un po' Quando inizierò A essere un po' Più forte Braistar Sarà a casa E continuerà Ovviamente Ad andare avanti Sulla base Quindi cercherà Di fare le stanze Inizierà a fare altre cose Mentre Io In alcune puntate Andrò all'esplorazione Da solo Però ovviamente All'inizio È giusto fare la puntata In cop Per così Ci portiamo avanti Perché le cose da vedere Ci sono Molte sono le stesse Molte sono le diverse Tipo Questa cosa della coltivazione È totalmente nuova È da scoprire Quindi però Per questa puntata è tutto Amici Ci vediamo al prossimo video Vi ricordo di supportare Questa serie con un bel mi piace Un commento Una condivisione Da Moruge Da Braistar Ciao E al prossimo fottuto video Mi raccomando Pagina Instagram Facebook Gruppo Telegram Playlist di questa serie Tutti i link in descrizione Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti 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 Ciao a tutti